Ciao, sono il dottor Simone Stori di Microdent e in questo momento la cosa più importante che dobbiamo fare è seguire le indicazioni, cioè stare ovviamente a casa e uscire il meno possibile per cercare di contenere questo virus che sta cambiando totalmente la nostra vita. Eppure in questo periodo credo anche che magari tu potresti avere qualche problematica in bocca, qualche dubbio magari da chiarire, qualche domanda da fare ad un dentista. Per questo motivo ho deciso che comunque anche la salute orale è molto importante da preservare in questo periodo e anche un eventuale dubbio è giusto andare a toglierselo. E per questo abbiamo impostato questo sistema appunto di consulto remoto sia per i miei pazienti sia anche per qualcuno che magari avesse bisogno appunto di un'informazione. Il tutto è molto semplice, basterà prenotare il proprio spazio di 30 minuti nel calendario che troverete qua sotto in maniera molto semplice e utilizzando un sistema appunto informatico con tipo, un pochino tipo Skype, quindi di videoconferenza, potremmo fare due chiacchiere per cercare di venirti incontro e andare a toglierti qualche dubbio che magari potresti avere sulla tua salute orale, sia magari di carattere d'urgenza, qualche banale consiglio, un supporto per una questione particolare, oppure perché no anche fare due chiacchiere su come magari migliorare o prendere a mano una problematica che da molto tempo era rimasta nella tua bocca. Inoltre potrai volendo, banalmente con un telefonino, oppure se hai delle lastre già digitali a tua disposizione, potrai inviarmi appunto del materiale che guarderò per cercare di darti più informazioni possibili ed aiutarti nella maniera più completa ed efficace. Quindi, se hai bisogno di noi, se hai bisogno di fare due chiacchiere, se hai voglia appunto di condividere con me le tue problematiche o semplicemente capire come poter gestire al meglio una piccola problematica che potessi avere in questo momento, ti invito a cliccare qua sotto e prenotare il tuo spazio con me. Ciao e ci vediamo presto! Grazie a tutti!